oggi parliamo della realtà ultima in che senso che cosa si intende ultimo rispetto a cosa il primo rispetto a che cos'altro e soprattutto che cos'è la realtà che cos'è reale e che cos'è irreale sono domande sulle quali la filosofia e in genere la ricerca dell'uomo ha indagato a fondo e ha trovato delle risposte sicuramente ha trovato dei sospetti è come se avesse per un attimo gettato il naso in un mondo imperscrutabile che non gli è destinato per conformazione è come se avesse appunto gettato un attimo lo sguardo sull'inviolato e sull'inviolabile cos'è reale e cos'è irreale ecco immaginiamoci per un solo istante che d'improvviso ogni atomo che ci compone esploda si disgreghi che noi miliardi di atomi di miliardi che ci compongono vengono totalmente vaporizzati in un solo istante diveniamo una nuvola un vapore inconsistente non collegato senza più forma senza più immagine così ogni singolo atomo che ci compone esplode si decompone si disgrega ecco l'uomo come immagine stessa dell'universo come microcosmo che in sé appunto è immagine del tutto potrebbe avere la durata appunto efimera l'universo stesso potrebbe essere efimero quanto è l'uomo ma efimero in che senso? efimero nel senso che tutto quello che ci circonda e che vediamo non solo che ci compone ma che compone tutto quello che ci circonda è un aggregato cioè è collegato a qualche cos'altro perché forma una struttura con altri elementi quindi un componente di per sé è fatto a sua volta di altri componenti e questi altri componenti a loro volta sono fatti di altri componenti ancora quindi la trasformazione continua tutto è uno scorrere un movimento un legarsi un nesso una relazione ma di per sé nulla è fisso immobile questo fa sì che di per sé le cose non esistono perché sappiamo benissimo il problema della nave di Teseo discusso anche dagli antichi greci noi abbiamo questa nave con la quale Teseo torna al porto e nel tempo bisogna cambiare un asse perché marcisce bisogna cambiare un chiodo perché arrugginisce e dopo un sufficiente periodo di tempo tutta la nave pur avendo mantenuto la stessa forma è stata completamente sostituita da altri pezzi la domanda è sempre la stessa nave? è uguale per la nostra mano per il nostro corpo che veniamo continuamente sostituiti cioè l'universo essendo un fluire perpetuo di per sé esiste o non esiste? è reale o non è reale? che cos'è il reale? se tutto è un aggregato un fluire questo aggregato non ha una sua consistenza o una sub sostanza come la chiamavano gli antichi cioè ciò che sta sotto sostanza in altre parole ciò che sta sotto subsostanziare non stare sotto cioè se al di là dell'apparenza e quindi della superficie vi sta qualcosa perché se noi appunto nell'ampiezza del tempo immenso del cosmico consideriamo la vita umana appunto è un nulla ma anche tempi molto più lunghi diventano un nulla rispetto all'infinità dei tempi del cosmo quindi dobbiamo immaginarci che tutto quello che noi crediamo sostanziale, fondativo, concreto, reale, esistente in realtà non esiste non ha una sua continuità il principio della continuità è immesso dalla nostra mente nelle cose ma non c'è nelle cose perché noi, la nostra mente fa questo scherzo qui in due eventi o comunque in due percezioni contigue la mente inserisce dei nessi di causalità vede una contiguità, una successione e ipotizza una continuità una sostanza appunto che però non c'è nelle cose viene costruita dalla mente ma perché lo fa? intanto per poter vivere perché se io uscissi da questa stanza e ritenessi che non c'è più il tavolo non ci sono più le sedie non avrei una certa capacità probabilistica di muovermi, di controllare l'ambiente in cui vivo io devo sapere che la strada qui fuori c'è che se adesso esco da questa stanza trovo dei muri e così via però il fatto che nella realtà delle cose questi muri, questa strada e queste pietre ci siano veramente quello è tutto un altro discorso io volevo fare un piccolo esempio tutto si dissolve come la polvere perché gli antichi hanno ovviamente usato parole ben precise per descrivere quello che è anche i testi antichi dicono polvere aerei, polvere ritornerai poi riferendosi alle cose e al soffio usavano la parola pneuma il soffio quindi immaginiamoci che tutto quello che è composto tutto quello che avviene le montagne, gli oceani la storia stessa dell'uomo quindi le epoche gli imperatori sono come un soffio uno pneuma un castello di sabbia durano il tempo di un avvenimento un'apparizione come una piccola scintilla nel vuoto una piccola scintilla nel buio è come un lampo un lampo, un bagliore un battito di ciglia in questo grande oceano di di insostanzialità sostanzialmente cioè per usare un gioco di parole un battito di ciglia del nulla oppure un bagliore del vuoto perché di questo si tratta di un avvenimento più che di l'universo risulta più che un insieme di cose risulta una serie di avvenimenti più che di cose ma ecco qui oso ardire diciamo proprio venendo al discorso della realtà ultima è come se ci fosse qualche cosa dietro dietro questo castello di sabbia no? le montagne dicevamo gli oceani gli imperatori sono castelli di sabbia il primo soffio l'opneuma gli spazierà via come l'immagine è questa delle foglie secche d'autunno che vengono soffiate dal vento questa è l'immagine che dobbiamo avere del mondo o anche di una nuvola che passa e si infila in qualche interstizio no? un vapore no? che non ha una ben precisa collocazione non possiamo dire che la nuvola è qui o è là no? è un contorno un vapore no? che se cerchi di stringerlo con la mano ti viene meno la consistenza stessa ecco questa forse è l'immagine che si potrebbe avere della realtà che ci circonda o anche del baluginare delle stelle o della ruggiara ecco ma se noi riusciamo a superare la superficie questo strato di sabbia riusciamo forse però ci vuole una grande vigilanza in noi stessi riusciamo forse a percepire una una realtà ecco ecco qui bisogna stare attenti che non vorrei usare termini fuorvianti ecco c'è qualche cosa sottostante una matrice dalla quale poi sorgono le forme che la sabbia assume quindi poniamo che la sabbia del mare assuma la forma di un castello che dura appunto il tempo di un soffio ma la sabbia di per sé deve aver preso questa foggia questo modello questa immagine del castello la deve aver presa da qualche parte la deve aver presa da una qualche cosa che sta sotto e che la sabbia diciamo è come una forma un build un pattern ecco adesso volevo fare un esempio visivo quindi prendiamo un foglio e una penna e immaginiamo di di avere uno spazio e di disegnarci che so dei simboli per esempio un cerchio un triangolo e un quadrato ecco qua quindi ecco immaginiamo poi che queste potremmo chiamarle forme originarie queste fogge attaviche pre sostanziali pre precedenti all'apparizione dell'universo ecco tutto l'universo è finissima finissima sabbia bianca che sta che avvolge ecco qua facciamo questo esempio e avvolgiamo cospargiamo no tutto l'universo di questa finissima polvere bianca che viene quindi a essere una una nuvola di di soffio quindi tutto quello che possiamo disegnarci come nei famosi giardini zen degli orientali no noi possiamo disegnare un un avvenimento che può essere un volto un albero una montagna no un volto ecco qua questo qui è un un'apparizione è dura il tempo no io soffio via e viene totalmente annientato viene decomposto è il cosiddetto big crunch no è come appunto se la forza che tiene insieme gli atomi venisse completamente a mancare no e come nell'esempio iniziale l'atomo esplodesse diventasse nulla elettrone e positrone che si annichiliano a vicenda no ecco è da notare che costantemente vi sono coppie di contrari che nello stesso tempo esistono e non esistono ci sono e non ci sono pertanto questa polvere che assume tutte le forme le fogge no vacue perché sono illusorie durano niente no ci sembra di intravedere un qualche cosa di reale ma dopo viene tutto riassorbito e riappiattito no nel nell'indifferenziato ecco questa è la polvere il soffio il soffio modella come ad autunno l'alito l'alito dell'universo che soffia e riappiana e riassorbe tutto quanto ma dicevo c'è qualche cosa sotto immaginiamo che con una vigilanza estrema di noi stessi penetrando la natura sostanziale per usare un gioco di parole perché è difficile in linguaggio umano raccontare quello che sto raccontando ma immaginiamo che riusciamo a togliere ad appiattire a spianare arrivare a per un istante solo ad avere come un'intuizione di quello che sta sotto ecco se noi riusciamo a intuire qualcosa si vede che sotto ci sono delle fogge primigenie riusciamo a vedere parzialmente un cerchio un triangolo e un quadrato e già fare questo lavoro significa nella mente pulire a tal punto penetrare con la consapevolezza una tal capacità di penetrare nella nella sabbia nella vacuità fino a intuire l'esistenza di questi tre principi o forme originarie ecco torniamo alla nostra visuale ecco questi questi attenzione io non voglio dire che queste fogge originarie che stanno sotto sono reali ok non è che appunto la sabbia e questa nuvola di cui si parlava ovvero sia tutto l'universo e noi stessi compresi è vacuità ecco il mondo classico della della nostra civiltà occidentale è una civiltà dell'essere e ci dice che al di là dell'apparizione del fenomeno ci sta un qualche cosa di vero ok il numero l'essere l'ente ecco io non ho questa visione per me non perché è una divisione falsa anch'essa è la polvere questa divisione è anch'essa la nuvola è perché si creano molti inganni nella mente questa stessa divisione fra vero e falso è essa stessa una chimera di questa polvere diciamo che le fogge sotto trascendono il criterio di reale e irreale perché di per sé queste fogge come nell'esempio dell'elettrone e del protone se messe insieme sono e non sono nello stesso tempo sono reali e irreali sono diciamo le potenzialità attraverso il quale il nulla può assumere forme sono ripeto sono le potenzialità le potenzialità attraverso le quali il nulla può assumere delle forme illusorie ma nel momento cioè questa illusorietà assume un peso nella mia rappresentazione pertanto quando io arrivo a soppesarla a ritenerla reale è reale no questa foggia nata dalla polvere diventa reale per quello insistono nel dire che è reale e non reale è e non è è l'essere e non essere tutto insieme è la falsità e la verità in un solo tempo è la congiunzione di due forze opposte appunto potrebbe benissimo essere un quadrato un cerchio per quello non li ho fatto a casa perché sono appunto due opposizioni e un principio neutro appunto il triangolo non penso che il il linguaggio umano possa spiegarsi diciamo in modo più chiaro o io magari qualcuno può anche spiegarsi in modo più chiaro però è difficile perché dicevo ci vuole un gran lavoro di penetrazione con la riflessione e soprattutto la mentalità ordinaria si oppone accanitamente a questa visione perché noi viviamo in una realtà dove è necessario crederci reali dove è necessario credere che viviamo in un mondo con montagne strade fiumi e che ci dà un'importanza e che i nostri obiettivi sono reali che possiamo soprattutto accrescerci migliorarci estenderci ecco se noi d'un tratto dimostriamo che tutte le nostre credenze sono irreali ovvero sì sono polveri che di per sé non hanno una sostanzialità questo pensiero del nulla che noi siamo composti di nulla che la nostra profonda condizione dell'essere è vuota che noi non siamo la mente non può sopportarlo non può sopportarlo perché impazzirebbe e sarebbe un'angoscia così grande da sopportare che ne verrebbe fuori pazza la mente a meno che non avesse appunto una capacità di sopportare la nientificazione di ogni atomo come nell'esempio iniziale cioè di immaginare che noi che ogni singolo atomo della nostra del nostro essere o uomo del nostro essere cosciente che la nostra stessa coscienza si annichili e assieme a noi tutto il resto dell'universo e questa annichilazione non è che dobbiamo pensarla una volta dovremmo vivere costantemente in questa immagine come se le 21.600 volte che respiriamo al giorno sempre che non è mi sembra che respiriamo facciamo un'ispirazione e un'espirazione 21.600 volte al giorno ecco io credo che per ognuna di queste 21.600 volte noi dovremmo immaginare di estinguerci completamente e di essere nulla perché dicevo quando abbiamo superato il terrore di questa visione nientificante ne potremo avere anche una beatificazione nel senso che così come viene tutto ridotto in polvere così questo grande principio di dissoluzione e di creazione permette esattamente quello che c'è permette strade montagne imperi permette anche me che in questo momento sto parlando a chi mi sta ascoltando per cui ecco spero di non essere stato così difficile nel parlare e con un piccolo esempio un po' di polvere bianca e un cerchio un quadrato di aver dato un messaggio di riflessione grazie amici miei e alla prossima